Office, produttività, più che di un programma, si tratta di una suite, anche quella di Microsoft, in quanto presenta un insieme di applicativi fusi armonicamente per interfaccia e anche per motore interno. Ne fanno parte Word, che è un programma di videoscrittura, Excel, che è un foglio di calcolo utile per bilanci e tabelle, PowerPoint, per le presentazioni, Access, un potentissimo programma archiviatore. I quattro programmi sono prodotti, come accennavo, dalla Microsoft e sono venduti anche separatamente, ma insieme costituiscono forse il più diffuso pacchetto software del mondo, che gira non solo su PC ma anche su computer Apple. Esistono molte alternative, anche gratuite, ad Office, la cui completezza e diffusione vanno crescendo. La più famosa è OpenOffice.org, utilizzato anche nella pubblica amministrazione, nella scuola e nella patente europea del computer.